Quanto vedete questo video? Quanto lo vedrete? Ve lo vedete io sarò morto come nei film figure. Volevo una vita. Alle volte ho sempre di tornare giovani. Volevo una nota di benvenzare. E mi dico dai credo ti ci serve niente di male. Tu sei un bravo ragazzo della che verrai. Quello che vuoi per una vita normale. Quello che vuoi per una vita senza guardia. Quanto vedete. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.